Parata di allievi dell'Accademia Militare di West Point e dell'Accademia Navale di Annapolis nello stadio municipale di Filadelfia, preludio al grande incontro di football americano combattuto dinanzi ad una strabocchevole polla di oltre 100.000 persone. In tre minuti di gioco serrato, i guardia marina battono i cadetti per 7 a 0. Grazie a tutti! Grazie a tutti!